Ho tenuto il mio pass fotografo e sono davanti a uno dei tendoni con già i disegni piazzati per posizionare i fiori stanotte. Inizieranno i lavori dalle 6 di sera e continueranno tutta la notte fino all'alba di domani mattina. Inizieranno i lavori dalle 6 di stagione. Inizieranno i lavori dalle 6 di stagione. Inizieranno i lavori dalle 6 di stagione. Siamo dovuti venire in piazza a partire dall'estate del mattino circa e c'era già un sacco di gente per vedere i primi tappeti floreali. Qui dietro, che meraviglia, quanti dettagli. Inizieranno i lavori dalle 6 di stagione. Inizieranno i lavori dalle 6 di stagione. Inizieranno i lavori dalle 6 di stagione. Inizieranno i lavori dalle 5 di stagione. Grazie a tutti. 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 Andando via ho trovato questa vista meravigliosa, sono anche commossa perché questo paese mi mancherà, mi piace tantissimo.